Salta il Consiglio Comunale di Nocera Terinese. Quattro consiglieri infatti hanno protocollato questa mattina le loro dimissioni decretando la fine dell'amministrazione guidata da Gaspare Rocca, in carica dal maggio del 2012. Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri sanciscono lo scioglimento del Consiglio. A dimettersi questa mattina sono stati due esponenti dell'opposizione, Antonio Albi e Franco Macchione, oltre ai due fuoriusciti recentemente dalla maggioranza, Rosario Aragone e Luigi Ferlaino. Quest'ultimo ricopriva anche la carica di Presidente del Consiglio Comunale. Tra le motivazioni addotte dai quattro sia la paralisi amministrativa dovuta ad una maggioranza che in Consiglio di fatto il sindaco non aveva più, sia quella che è stata definita una impraticabilità democratica che sarebbe stata messa in atto dall'amministrazione nei confronti dell'opposizione. Un gesto doloroso come lo ha definito l'ex consigliere Albi. Siamo arrivati a questa condizione, a questa conclusione perché c'è un vero e proprio atto di crisi economica da parte dell'amministrazione comunale, una mancata gestione efficiente delle condizioni economiche e in più da parte nostra, da parte dell'opposizione vogliamo denunciare pubblicamente una mancanza di agibilità democratica nei nostri confronti che è venuta meno sempre di più rispetto all'inizio della legislatura. Stessa amarezza da parte dell'ex consigliere Macchione. Se abbiamo fatto quest'atto sicuramente principalmente lo facciamo per il bene del Paese. Cerchiamo di andare avanti e spero che andiamo subito alle votazioni, nonché fare una bella, una buona equilibrata giunta per poter fare del bene a questo Paese che ne ha veramente tanto ma tanto bisogno.